Buon venerdì 24 maggio. Viviamo un tempo nel quale, nonostante ci dichiariamo particolarmente liberi, un po' libera anche, siamo molto lamentosi, pur abitando la parte più ricca del pianeta. Ci lamentiamo sempre, siamo insofferenti nei confronti degli altri e qui ci viene in soccorso la liturgia di oggi. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo, non lamentatevi fratelli gli uni degli altri per non essere giudicati, ecco il giudice è alle porte. Il giudice supremo, non la nostra idea di giustizia che poi si sostanzia intorno alle leggi che noi costruiamo per dare concretezza alle nostre lamentele e siamo attraverso questo modo di procedere incapaci di predisporci alla legge suprema che è la legge dell'amore che implica in sé anche un altro elemento che è quella della liberazione della nostra presupponente egocentricità. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. I profeti testimoniano perseveranza e sopportazione anche nel momento della difficoltà. Ecco noi chiamiamo beati quelli che sono stati pazienti, essere sopportanti, pazienti e non lamentosi. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione. Misericordia e compassione rappresentano l'essenza stessa della legge dell'amore, la quale reinterpreta radicalmente anche senza modificarle le leggi formali, le ridefinisce in maniera radicale e sostanziale. Soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo né per la terra e non fate alcun altro giuramento, ma il vostro sì sia sì e il vostro no no, per non ricorrere nella condanna. Sì e no nella franchezza, non abbiamo bisogno di fare giuramenti. E poi c'è il brano del Vangelo di oggi il quale ci sollecita a lasciare, è una rappresentazione simbolica significativa della legge dell'amore che implica il saper lasciare, senza per questo interpretare il brano del Vangelo come una modalità di ridefinire in qualche modo il nostro modo di porci relativamente a una questione sicuramente molto importante che è quello del legame affettivo che genera condizioni affettive che chiamiamo familiari. E vediamo dunque il Vangelo di oggi, il Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, partito da Cafarnao, venne nella regione della Giudea e al di là del fiume Giordano. La folla accorse di nuovo e lui, e di nuovo, egli insegnava loro come era solito fare. La consuetudine dell'insegnamento rappresenta la testimonianza di Gesù, l'infaticabile opera di insegnamento. E a questo punto appaiono i farisei che nulla altro sono se non la rappresentazione simbolica dell'umanità che si dichiara credente e che molto spesso costruisce una religione e un Dio a propria immagine e somiglianza, ai propri formalismi che insistono sulla legalità senza entrare nel merito della giustizia radicale e sostanziale. Alcuni farisei si avvicinarono e permettono la prova. Gli domandavano se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose. Spose loro che cosa vi ha ordinato Mosè. Dissero, Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro, per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Una norma scritta per la durezza del cuore. Quante norme noi scriviamo per la durezza del nostro cuore che è incapace di vivere concretamente la dimensione della misericordia e della compassione. I radicalismi religiosi molto spesso sono privi per la durezza del cuore proprio di misericordia e compassione e si affidano semplicemente alla legge formale con durezza per imporre un modo interpretativo che rappresenta soltanto la propria autoreferenzialità. Ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. La precondizione per la costituzione di una armonia nella diversità è quello di lasciare e simbolicamente è particolarmente significativo lasciare il padre e la madre, lasciare la propria origine, lasciarsi andare al processo evolutivo che porta a una richiesta di testimonianza di un cammino che è antitetico a qualsiasi formalismo e che ci porta a reinterpretare radicalmente la nostra esistenza, cioè a convertirci. Così non sono più due ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto, questa unitarietà che rappresenta il rapporto tra tutte le creature che costituiscono l'insieme complesso di questo creato. Non siamo chiamati a dividere, eppure lo facciamo tutti i giorni questi atti di divisione. In funzione della autoreferenzialità, non è una questione che riguarda solo il matrimonio, riguarda qualcosa di molto più complesso. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei e se lei ha ripudiato il marito ne sposa un altro, commette adulterio». Per entrambi vale la stessa regola. L'adulterio è una rappresentazione anche in questo caso particolarmente simbolica della parità nella diversità. Maschio e femmina simbolicamente rappresentano due entità diverse, ma che hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Qui non è in gioco soltanto la condanna dell'adulterio, perché quella poi va reinterpretata all'insegna della misericordia e della compassione. Chi sono io per giudicare, ci insegna Papa Francesco, ma Gesù stesso, di fronte alla donna che viene lapidata per il suo comportamento sessuale dissipativo, la vogliono lapidare e Gesù si ferma, si sofferma e chiede a coloro i quali intendono lapidarla di formulare un'analisi di coscienza sui loro peccati. E ovviamente chi è senza peccato scagli la prima pietra, non lo fa nessuno perché sanno benissimo di essere anche loro dei peccatori. Va e non pecare più. Dunque, in qualche modo Gesù manifesta lo stile misericordioso e compassionevole, che è il segno distintivo di un Dio che non è assolutamente incline ad escludere, ma accoglie tutti noi in quanto peccatori e ci invita a non essere giudici severi quando in realtà poi la nostra esistenza è caratterizzata da una necessità costante di essere perdonati per i nostri peccati. Sono brani del Vangelo che ci riportano l'attualità e che ci insegnano cose straordinarie, ci invitano a stili di vita radicalmente contrari a quello che facciamo, in direzione contraria al nostro modo di procedere, giudicante come quei farisei, che insistono in una condizione di tradizionalismo indisponibile a un cambiamento radicale. Gesù ancora una volta ci porta sulla via della salvezza e sull'invito a una conversione che ci faccia protagonisti di una testimonianza di misericordia e di compassione. Buona giornata a tutte e a tutti.